Ciao a tutti, allora, i migliori giorni di Edoardo Leo e Massimiliano Bruno. Adesso al cinema, appunto, un film episodi che è stato paragonato, come si dice, che è un tentativo di riportare la commedia all'italiana. Sicuramente c'è un tentativo di ispirarsi ai mostri di Norisi, appunto, film capolavoro di cinismo, insomma, della commedia all'italiana, di un regista come, appunto, Dino Risi. Allora, questo film, però, secondo me, non è riuscito, nel senso che è un tentativo sicuramente apprezzabile, però c'entra poco con la commedia all'italiana, e adesso cercherò di dire perché. Allora, innanzitutto, la commedia all'italiana faceva ridere, comunque sia, ed è vero che la risata è qualcosa, la comicità è qualcosa di molto soggettivo. Cioè, la commedia all'italiana era trattare in modo comico, ok? Quindi ricorrendo anche, se vogliamo, al grottesco, trattare con comicità eventi assolutamente tragici e drammatici. Ma, nel suo essere così casi cattiva, così crudele, risultava comunque divertente, risultava divertente, ma era quella risata amara, quella risata che tu la guardi, appunto, ridi. Ridi perché non sta riguardando te, ok? Ma, se riguardasse te, tu non rideresti. E questo è un po' il meccanismo del grottesco. E, dicevo, la comicità è sicuramente un effetto soggettivo. Non tutti ridiamo delle stesse cose, e va bene così, ci mancherebbe altro. Però mi pare di capire che, in generale, questo film non stia risultando divertente. Quindi, insomma, c'è il problema uno che non risulta comico, non risulta divertente. Risulta, al contrario, molto più tragico e drammatico. L'altro problema, invece, rispetto alla commedia all'italiana, è che questo film è molto retorico. È molto retorico, è moralista e prende, come dire, dei punti di vista in modo molto marcato dei personaggi che ci sono. Prende le parti dei personaggi e si schiera. Facendo uscire, a parte, per carità, in alcuni episodi, nella maggior parte dei casi, dei racconti con personaggi molto macchiettistici, manichei, ok? E dimenticandosi che la commedia all'italiana era tale, anche perché era spietata con tutti. Nel senso che non andava a riproporre dei luoghi comuni, trovando comunque sia del buono e il cattivo. Ok, la commedia all'italiana, prendiamo in questo caso Dino Risi, visto che è un film episodico, cioè, sicuramente l'ispirazione è maggiore. Dino Risi, parliamo di Dino Risi e i mostri, era spietato, era spietato, era cattivo, non risparmiava nessuno, non si salvava nessuno nei suoi film, ok? Quindi, questo film è poco divertente, molto retorico, moralista e nel suo essere retorico ci sono anche tutti gli strumenti retorici, scusatemi, ripetizione del cinema, come la musica, una musica tragica, triste, che accompagna certi momenti e certi personaggi, quasi a sottolineare dove, come dire, tu, spettatore che stai guardando il film, devi schierarti, cosa devi pensare, per chi dovessi tifare, con chi dovessi essere d'accordo. Ne esce, tuttavia, uno specchio, per certi versi, della società, ma che riflette assolutamente i luoghi comuni e contemporanei. Non c'è, come dire, un'interpretazione, c'è più un rispecchiare, ma in tutto questo non c'è, quindi, come dire, un'idea che vada a mettere in luce quello di cui non ci rendiamo conto nella realtà. E questo, secondo me, è il più grande problema. Cioè, il fatto di riproporre quelle che sono le narrazioni contemporanee, con i suoi schieramenti, con i buoni e i cattivi, ma senza andare a sciogliere questi luoghi comuni e a dirci, guarda che in realtà non ci salva nessuno in tutto questo. È questo che faceva i mostri di Norisi. E quindi, ancora, i poveri contro gli imprenditori, cattivi, spietati, esistono, ci sono, ma è sempre così, è soltanto questo. C'è un episodio che è questo, perché gli episodi in questo caso sono legati alle feste dell'anno, ok? In questo caso, il primo episodio è legato al Natale, ok? E quindi ci sono il Novax contro il Provax. Ma anche qua, è soltanto una riproposizione continua di luoghi comuni, ok? Non c'è... cioè, ok, quindi tutti questi luoghi comuni li abbiamo voluti su Facebook, li abbiamo voluti sui social, li abbiamo sentiti in televisione, li abbiamo sentiti parlando con le persone. Ma quella è l'utilità di vedere assolutamente quello che già noi sappiamo. Cioè, di vedere e confermare soltanto quello che già pensiamo, invece che vedere qualcosa che ci spinga a riflettere e mettere in discussione quello che già crediamo. Questo dovrebbe fare il cinema. E questo dovrebbe fare un film come i mostri, in questo caso i giorni migliori, che però non fa, non fa e questo è un peccato. Si può discutere del fatto che il Covid forse è stato messo in scena fuori tempo, in questo caso, sì, può essere. Però io credo che i problemi, come dicevo, poi, per carità, ci sono episodi che risultano... Secondo me il più divertente in tutto questo è San Valentino. Il problema di San Valentino è che è tutto molto forzato, è tutto troppo incastrato tra i personaggi. Però, ripeto, io credo che la vera mancanza sia proprio questa. Cioè, non aver saputo interpretare, non aver saputo mettere in discussione i nostri luoghi comuni, al nostro sguardo, portandoci a vedere qualcosa che non riconfermi quello che già pensiamo, ma che al contrario mette in discussione, scioglie i luoghi comuni e ci dica che in fondo nessuno si salva. Questa era il... questo era Dino Risi, questo erano i nostri, questo era il capolavoro di cinismo che non aveva idee politiche, ma appunto andava a guardare il marcio dell'essere umano e dei costumi dell'italiano. Va bene, fatemi sapere cosa ne pensate, grazie a tutti, ciao e alla prossima!